Piume, non capisco la fobia delle piume, Kochi Secondo te, ecco La fobia delle piume Da cosa deriva? Eh, che sei così super carina tu Eh, dove vuoi volare sul 3, 2, 1 Ma sul monitor? Ah, sì, è super carina lei Eh, che sei super carina Ah, pii 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 pii, sì 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 ah signori posso tra l'altro posso invitarvi attenzione posso invitarvi sull'isola fatemi però fare questa cosa qua ok fatemi fare così se cliccate così in teoria dovreste poter entrare nell'isola credo suppongo dovrebbe funzionare così no allora si gioca dopo vado su clash e poi credo cod adesso volevo farvi fare un giro allora oggi ho presentato durante il summer summit di cooler master e dopo la presentazione abbiamo invitato ovviamente le persone a gioinare appunto sull'isola ed è super carino ve la volevo far vedere praticamente puoi interagire con gli oggetti vedete tipo interagisco con questo puoi parlare puoi usare anche la webcam tra l'altro e funziona a prossimità quindi sei vicino a delle persone puoi parlare ti sentono in quella zona o ti vedono in quella zona è super carino poi quando clicchi le varie cose ti appaiono ovviamente le schede dei prodotti eccetera ci sono anche degli easter egg in giro da cercare è super carino e volevo farvelo vedere perché vabbè la presentazione l'abbiamo finita alle 18 non potevo ovviamente streamare la presentazione per ovvi motivi però in realtà l'hanno registrata quindi probabilmente sarà pubblica da sabato se non sbaglio poi venerdì devo cochi ma io non so ma niente si attacca la webcam stavo dicendo poi da sabato dovrebbe essere tra l'altro disponibile per tutti ma moreno tu sei l'unico al mondo che userò per che usa opera gx non non so neanche che cazzo sia verso di gx hola 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 sei mutato hola no hunter no 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 non è un gioco interattivo con la chat è un è un'isola dove in realtà noi invitiamo abbiamo invitato oggi i b2b quindi le varie aziende con cui lavoriamo e distributore eccetera i media quindi giornalisti e via e però è aperta anche per la community e le varie isole faccio vedere la minimappa le varie isole sono praticamente ognuna è dedicata a una linea di prodotto quindi una business unit adesso sono qua che è praticamente aspettate perché il nome è super complicato ma ciò possiamo fare è stato qualche cosa apre il sito che cosa un secondo fatemi mutare dal gioco e sorgattimenti un casino tra l'altro oggi hanno appunto fatto vedere il motion one che è assurdissimo 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 è spettacolare praticamente la sedia con sotto il motore per sensazione atti attica assurda e niente quindi si può andare cos'è che ha sbattuto non lo so ecco questa è l'isola delle mie amate periferiche madonna che evento che sta tirando fuori è troppo carino e e hanno fatto tutti i program tutti i prodotti in otto bit vedete ci sono i case è troppo carino ciao kri come stai buonasera un browser con l'estensione twitch installata non lo sapevo bello questo qua anche questo è quello degli alimentatori è super carino oggi c'era un botto di persone che giravano poi è bello appunto perché quando ti avvicini alle persone sopra viene la webcam puoi anche parlare troppo carino aiuto madonna ragazzi fuori c'è un vento della madonna koki hai già capito non puoi andare sulla webcam smettila se premi g diventi trasparente invisibile acqua ci sono le mod guardate che hanno fatto in otto bit le mod che avevo già fatto vedere che erano quelle che avevano vinto la la world mod series cup e li commercializzeremo bellissimo questo qua è vero Ragazzi sapete che io sono drogata di queste cose Quindi rimarrei secoli a guardarne Non è buono Hunter No, non è buono Vi dovrò far vedere il video del cockpit Adesso ve lo porto a far vedere Che è troppo una figata No, vi devo far vedere Che figa, aspetta Dovrebbe essere di qua Vediamo se hanno messo qua il video Vediamo un po' Se c'è il video di questo L'ho visto prima ma Non è qua Non l'hanno messo di qua il video L'ho visto prima durante la presentazione Ma mi sa che Non l'hanno messo anche online No Ahimè, no Purtroppo no Va bene, noi vi abbiamo presentato Me lo sapete Noi mouse wireless Ultra light Idem ck721 Wireless Ck352 Tanto mi arriva dopo domani Perché ho preso il sample su in Olanda E' bellissima La duro Ha il profilo Mi piace da morire Mamma mia Quanto mi piace C'è anche Moreno Ciao Moreno Ciao Murgio Ciao Diego Buonasera Ciao Riccardo Sono rimbambita Perché non ho avviato Il cosino Dell'Allerbox E grazie Riccardo Adesso lo rifacciamo subito Lo farò vedere Sì Però senza Perché non mi ha fatto l'audio Io voglio sentire l'audio Perché non ho sentito l'audio Oh Va all'infinito va Ma Vabbè Oggi non c'ho voglia di andare l'audio Non ho capito perché Ma va bene Ciao comunque Grazie Sì tutto bene Tutto bene Tutto ok Cazzo Volevo far vedere il video Ma Eh no L'hanno caricato qua Era una figata assurda Cavolo Era veramente Super figo Mamma mia C'è anche questo qua È bellissimo Cioè io questo qua Oro Quando l'ho visto oggi Mica stavo sbavando Ma figuriamoci io Che non sbavo dietro a queste cose Questo è il mio case Cioè Si possono scegliere come Come farli tanto Posso scegliere la volume? No Comunque si può scegliere come customizzarli Cioè ci sarà proprio un sito in cui si può scegliere la colorazione Cosa scrivere Cosa inserire E Delle periferiche Sì Si può fare ultra custom Sarà disponibile fra non molto Questo qui è l'isola centrale Poi qua L'hanno messa in under construction Non si può entrare Stanno finendo da una cosa carina Questo è il palco Tra l'altro se sei qua Ti sente tutta l'isola No è veramente fighissimo Guardate questi qua Sono qua Oh Hello Valentina You are me Hello Hi everyone How are you doing here? Hello Hello I think Valentina is from Europe or US, right? Europe, yes Europe Ah, from Europe The group here is from APEC Malaysia Hmm, okay Losers Yeah, I'm visiting in Italy Oh, Milan, Italy, wow Yes Oh, wow How's the pandemic here? Sorry? Is it How's the pandemic there? The pandemic, well, right now We are not anymore in lockdown Since, I think, the beginning of July No, June Yeah, June But I guess that in September We will be again in lockdown Because of the summertime And all the people going around For the vacations So Hey, congrats on the World Cup Yeah, thank you Euro, la Euro, la Euro Yeah Whatever Euro 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 Okay, guys, I leave you here Just don't drink too much, okay, please Okay, don't get drunk No, yeah, yeah The only guys who drink here is Mubasha Yeah Don't drink too much Enjoy, guys Enjoy, bye Thanks for the hospitality No problem, you're welcome Bye Ecco, e niente, ragazzi E via, così Scusate per l'interruzione Oh, c'è Cree Oh, c'è l'ho buttato Hola 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 Stai attento perché a sinistra ci sono persone Ho visto, ho visto Cinesi, eccetera Quindi se vuoi andarti a fare il karaoke No, no, anche no, grazie Andare giù da loro Bellissimo Com'è l'isoletta? Fighissima È carina, vero? Sì Sì, sì Infatti quando hanno fatto vedere la preview 7 l'anno scorsa Eravamo tutti Mamma che figata Ovviamente poi tutti, tra virgolette Le persone nerd, ovviamente geek Perché poi c'era tanta gente che manco arrivava a riuscire a connettersi Però va bene Vabbè, sì No, è stata un'idea super carina Hanno fatto veramente un bel lavoro Poi è super figo che ci sono anche tutti i prodotti rifatti in 8 bit in giro È super carina Cosa c'è qua a destra? Aspetta C'è una barca, qualcosa che c'è Dove si va? Ah C'è la discoteca C'è la scoteca Ma? Ecco, me l'ero persa la discoteca Adesso metto la musica su e siamo a posto Che carino l'avevamo fatto Rialamente carino E niente, mi rimuto qua, eh E niente, ragazzi Avete visto anche l'incrocio con degli utenti? Gli utenti taiwanesi, credo Comunque della Malaysia, APAC Insomma, quella zona E niente, quindi oggi dopo il meeting Siamo venuti un po' tutti qua C'era la gente nelle varie isole Che chiedeva le informazioni Faceva domande È stato super carino Super super carino Lasciamo perdere che hanno messo di quelle domande Che vabbè Quindi non pensi che sia andata molto bene Pure l'audio non sapevo come si accende Sì, c'è pure l'audio E c'è anche la webcam se vuoi Sì È super carino E niente, mi ha fatto troppo ridere Che abbiamo incrociato Non so se sono degli utenti O se sono dei distributori E dei media appunto Stranieri Però È troppo carino sta cosa Non sa di no Perché è una materia molto difficile Mannaggia Mi spiace se è andata male E niente E quindi Che bellini Mamma mia Sono troppo belli Poi perché ogni isoletta È tutta customizzata A suo modo, no? Mi fa troppo Troppo figo Qua ci sono i case nuovi Tra l'altro ci sono anche degli easter egg Se girate in tondo in giro Chi è che ha scritto? Yo meu Niente gente che scrive cose Randomic A caso Non lo Cos'è questo? Allen R200 Max Ah ok 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 E niente Quindi Nulla Volevo farvi vedere un po' Questa cosina Che mi sembrava super carina Anche da condividere Poi Me la salvo per il futuro Così quando sarò vecchia Decrepita Vedrò E farò Wow Tanto perché c'è un sub goal Che non esiste Fatemi togliere il sub goal Che non c'è Cioè non c'è il sub goal Però Se volete fare una sub Siete più che benvenuti Che non c'è il subito Che non c'è il subito